Ehi Ferinichi, dimmi, visto che la scorsa volta nel negozio ti sei arrabbiata quando ho cambiato tutto, questa volta ho lasciato tutto uguale 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 Non ci credo, tanto se è sempre un bugiardo, io adesso so già che entrerò e ci saranno un sacco di cambiamenti fatti senza di me Ti prometto che nel negozio non c'è nessun cambiamento Ehi ragazzi, come va? Io sono Ferinichi E siamo qui tornati nel nostro negozio dei consolini su ShopEquip Questa volta l'intro la fai tu, perché io so già che ci saranno tantissime cose che io non so, quindi è inutile spiegare cose che io non conosco Ehi, allora, sono Ferinichi e quest'oggi andremo a provare i larri, i druidi e tante altre cose bellissime Sono più brava di te, non ho quella voce, non ho quella voce, ok? Adesso i consolini ti insulteranno perché io non ho quella voce e hai usato Mi ha fatto anche male la gola Allora, hai usato prendere in giro la somma Regina Ferinichi, regina di tutte le cose perché non posso far l'elenco Regina di Babbi è l'unica cosa di cui sei regina No, di tante cose quindi non posso far l'elenco, quindi regina di tutte le cose, mi sono tramutata Allora, torniamo subito a Seri, io ti ho promesso che nel negozio non ci sono differenze Quindi adesso ti faccio vedere il nostro negozio, dimmi se hai noti qualche differenza Eh qua no, però sicuramente ci saranno altre differenze E invece c'è Che cos'è? Sono dei tappetini che puliscono le scarpe alle persone che entrano nel negozio Oh, così lo smettono di sporcare tutto come degli animali Esattamente, quindi adesso nessuno sporca più Ne ho messo un po' perché sono piccoli piccoli e solo uno o due risultavano bruttini secondo me Sono bellini così, sono bellini E quindi ne ho messo un po' di più e secondo me è molto carino esteticamente Sì, ci stanno, ci stanno Poi direi che l'altra novità sta in basso a sinistra con i soldi Eh vabbè Ecco me, sono leggermente Ma io mi giro un attimo e nel frattempo diventiamo ricchi Ho trovato la formula magica per diventare ricchi Però solo su ShopEquip Nella realtà ancora non l'ho scoperta Se qualcuno la sa scrivetela nei commenti Però l'ho trovata per ShopEquip Almeno qui possiamo essere persone ricche e potenti Ok, e l'ultima novità sta qui alla locanda Ok, ottima Guarda qua, quattro tavoli invece che due E tu direi, ma perché hai messo gli altri due tavoli se non facevi soldi? Giusto? Perché? Perché adesso in tipo 3-4 minuti di gioco ci fa 10.000 gold della locanda Com'è possibile? Ho messo tutti i talenti, quindi gli skill points che c'erano per la locanda Che sono questi qui, vedi tutti questi E adesso io non so perché, non l'ho proprio capito Fa un sacco di soldi Oh ma almeno ha senso Perché tipo nello scorso episodio avevo paura che fosse totalmente inutile Cioè faceva troppi pochi soldi Invece adesso è ottimo E invece è fin troppo potente secondo me Eh, anche esatto, esatto E poi mi sono lasciato 260 punti Perché come promesso oggi sblocchiamo i ladri Ok E i druidi Ok Quindi per questa giornata avremo finalmente due nuovi tipi di eroi che vengono qua in città Guarda, guarda, guarda Abbiamo adesso le frecce che sicuramente serviranno per i ladri Ok Poi cosa abbiamo di nuovo? Non ho idea Uh, sono le cose da ninja Ok I shuriken Bellissimi Poi abbiamo finalmente la cinta Ti ricordi che questa la cercavano un sacco di gente? Sì, la cercavano tantissimo E basta? Come basta? Per i druidi non abbiamo nulla Per i druidi sicuramente tutte le L'erbe Sicuramente la pozione La pozione della crescita Secondo me mi sa molto di druido A proposito, a proposito La cosa più figa che dobbiamo fare oggi Scusami, eh Permesso, permesso, permesso I soldi li ho fatti per questo Spam Ma quanto è grande adesso? Ma ce ne sono ancora 250.000 gold E 100.000 100.000 gold Vabbè, vabbè, stiamo calmi qua L'altro per ora non lo compro Ma diventa un centro commerciale Questo Con le sezioni Stiamo diventando ricchi e potenti Anche perché qua se vuoi vendere un po' di tutto Ci serve molto più spazi Infatti penso che qua faremo una nuova sezione di mobili Tra un giorno e l'altro Adesso appena finisce una giornata E vediamo un pochettino cosa mettere Anche perché dobbiamo spostare sti tavolini Giustamente che sono in mezzo adesso Adesso sì È una sorpresa È normale che io non sappia che si Sì, però allo stesso tempo non l'ho neanche fatta Ok, ok Capito? Questa volta invece che farlo Sì o meno Non è che ti sto seguendo molto Senza di te Ti ho aspettato Ok Quindi è una sorpresa Sorpresina Sorpresa non che non è sorpresa Chiaro? Perfetto, perfetto Però dobbiamo prima vendere le cose ai maghi Mancano 15 punti Alla nuova cosa che voglio prendere Quindi dobbiamo vendere a mano spade e scude Così ci facciamo 20 punti Ok E siamo pronti, prontissimi Allora Buongiorno Lei è un guerriero Sì, lei è un guerriero Le vende una bella spada Grazie, arrivederci Druido, mago, rog Ora è diventato tutto più difficile per vendere le cose Direi, direi Perché in giro trovi di tutto E di più Ladro, druido Buongiorno Lei è un guerriero No Come state? Bellissima Allora Sono passati 4 minuti Anzi 3 minuti e 30 Da quando abbiamo iniziato la giornata Ok Guarda i soldi che ha fatto E vabbè 6000 gold in 3 minuti e mezzo Fatto Perfetto Allora 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 Skills Pa 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 Non ti faccio niente Perché? No, devo per forza prendere prima questo Che Che cosa hai preso? No Io ti volevo comprare una cosa Ok Però non avevo notato che prima Devevamo comprare quella che stava sopra No, che è sta roba? Che è? Cos'hai preso? Cosa? Cos'è? Allora Tutorials Ce l'abbiamo Che ce lo spiega? Eh, sì Grinding Ok, lo leggiamo al volo e ve lo spieghiamo È completamente inutile Perché serve per fare l'alchimia Quindi le pozioni Ma io non c'ho voglia di essere anche un alchimista Proviamo a farne una Eh, allora Come si fa? Ta Ok E adesso Scafali Scafali, 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 scafali Un po' di tavolini Un po' di sgabellini Un po' di cose per le chest Ah, guarda lo shuriken Nello sgabellino Eh, sgabellino, sì Ok, ma quanto ce lo sta vendendo? Sta facendo bene i profitti? Soldo per 42 Profitto a 14, sì Ok Ok, allora A questo punto Stavo pensando un po' I banconi Non credo che ce ne servano più di tanti Pensavo un po' di sgabellini anche qua in mezzo Vedo che qua c'è apparecchio spazio Sì, esatto Perché comunque ci sono certi oggetti Quelli piccoli Che non possiamo vendere proprio ovunque No, certo Così un po' sparsi mi piacciono Vero? Mi piacciono, sì Dai, per riempire un po' alla fine Non attaccarli troppo Che puoi oppure che non arrivino a comprare Lo so, lo so Quindi mi raccomando Va bene? Lascialo così Certo, certo, certo Questo per ora lo lascio per comodità Però poi lo toglieremo E se vuoi possiamo anche aprire la questa Vai, vai Oggi espandiamo tutto Ok, allora Qua vorrei mettere un po' di questi Un po' di banconi Un po' di banconi Tipo pam Pam Qua mettiamo magari un po' di tavolini Sì Ok E poi continua così, capito? Pam Quindi Pam Ti piace? Sembrano banchi di scuola Però ci sta E poi allora la cattedra Ok Così Ottimo, ottimo Abbiamo fatto una scuola di merce Senza gli alunni Ma con le cose in vendita Capito? Allora, un po' di seggioline No, dove vi metti? Lo so, qua Capito? Qua come Non mi devi seguire Quando io ti dico queste supirate Capito? Ormai, ormai Non mi devi seguire Tu continua a fare le cose bene Non potevamo fare Siamo ricchi Guarda Fare una scuola E poi ovviamente qua Per quelli che non hanno il tavolo È giustamente Perché qualcuno a scuola Sta sempre senza il banco, no? Esatto Ok, guarda Sì, dai ci sta Direi che possiamo permetterci Di comprare un sacco di merce Quindi voglio fare uno shopping pazzo Tipo Hashtag shopping pazzo Hashtag shopping pazzo Mi piace Manco come quando ci sono i saldi proprio Capito? Siamo peggio, peggio Allora, guarda Guarda quante pozioni compro Attro che abbiamo un sacco di posti Per le pozioni Eh, finalmente Anche perché i robot Non riuscivano più a mettere le cose Dato che non avevamo più spazio Quindi mi sembrava giusto ampliare Come si deve Che poi dobbiamo anche stare attenti Perché in quelle stanze Non essendoci i robottini Potrebbero rubare parecchio Quindi bisogna Però teoricamente poi passano di qui E vengono scossati E quello che io voglio capire È una dei dubbi che ho Vabbè, in effetti l'uscita è una In effetti quello sì Quindi vedremo E poi l'altro dubbio è Lui piazza in qualunque cosa? Credo di sì Sì, sì L'ho visto piazzare nell'altra stanza Quindi ne sono praticamente sicura Portale, facci arrivare veloce le cose per favore Quando non abbiamo tempo a perdere E vabbè E vabbè Robottino ha un po' di lavoro a fare Giusto un po' Vada, vada E almeno per una volta Si rende utile per i soldi che prende Guarda No vabbè dai Sono utilissimi Secondo me se li meritano tutti Tutti, tutti, tutti quei soldi E quello per mettere la merce non lo so Buongiorno Quanti soldi ci dà? Zero Vabbè è chiusa in questo momento C'è nessuno Ma sai che la mia teoria era giusta? Il ladro ha comprato il libro di ingegneria Perché adesso Cioè questi davvero fanno finta di essere ingegneri Poi truffano Adesso il furbetto va in giro E tutti avrebbero Ah ma è un ingegnere Wow scusimi Chi è che non si fida degli ingegneri Vorrebbe venire a casa mia a fare un progetto? Certo, certo Prende e ti ruba tutto Ti dà pure un calcio in testa E se ne va via con tutta la tua roba A voglia, a voglia È un piano geniale Ti ruba sei soldi Del progetto che ti fa Sia tutta la casa Che ti ha costruito Ho capito Tutto si porta via Vanno, vanno, vanno Sì allora ci passano Ottimo, ottimo Perfetto Guarda si è riempito tutto Con le cinte A me lo vedo meglio allora Bello Che figata È tipo troppo epico Guarda aspetta Vediamo se lo scossa Così ci togliamo anche l'ultimo dubbio Sì Sì E allora ottimo Non ce ne bisogna Non ce ne bisogna Perfetto Siamo alla grande Siamo benissimi Mamma mia che episodio Allora invece voglio vedere Se da questa ha riempito tutto E sì E sì Sì Guarda gli stivaletti Gli stivaletti lì tutti sono fantastici È anche bravo a sistemare le cose Il robotino Sì lo fa con buon gusto Secondo me ha proprio un buon gusto Sì Abbiamo leggermente buggato il gioco Sembra che siano facendo una specie di ballo strano Ma praticamente li abbiamo semplicemente venduto della merce Mentre erano seduti a mangiare E quindi stanno continuando Ad essere seduti e a mangiare A discutere Hai capito A discutere e a rimanere seduti però mentre camminano È un bug incredibile Allora Siamo riusciti a bugare anche sto gioco E ancora non ce l'avamo riusciti Mi sembrava giusto Anche se poi io ci sono riuscito tra un episodio e l'altro Ma non te l'ho raccontato Praticamente il robotino che sistema le cose Mi ha spinto e mi ha incastrato tra una seggiolina E un E un cosa Un tavolino E ho dovuto spaccare Speramente te lo sei meritato Ho dovuto spaccare il tavolo per tornare Capito per rimuovermi Comunque Ha fatto bene Comunque in questo momento abbiamo 1900 gold Perché abbiamo provato a comprare Per 10.000 gold Un kappa points Pensando fossero 1000 punti E in realtà credo ci abbia dato O uno o dieci Quindi abbiamo buttato Tutti i nostri soldi Ne mancheranno solo due Una Finalmente Ce l'abbiamo Non mi era data fatta Come no No Come no No Avevamo già finito e non mi ero accorto Ah ok Ah no Pensavo ci fosse bugata in senso negativo Quindi Anche io Anche io Pam Ok E non so che cosa sia Ok Allora Non c'è nulla E non c'è nulla Praticamente dobbiamo mettere i vari oggetti Qui dentro Quindi voglio provare Ok A distruggere questi oggetti Ok E a quel punto Prendere quello che ci dà Allora Ad esempio Un po' di questa pozione Grazie Ok Un po' di questa pozione Ho detto Ma Non è che deve essere piena Un tot Almeno uno Sì Almeno uno Almeno uno Ok Infatti intuivo E quindi possiamo mettere del junk Perfetto Ok E io vorrei però Appunto Questo mir Cosa vuoi arrivare a fare Non ho capito Una spada speciale Dici che ci riesciamo Penso di sì Lo spero Secondo me è solo un disastro Secondo me ce la facciamo Sì da mir Le pozzini hanno mir E questo da metallo Quindi noi adesso mettiamo Uno di mir Ok Ok Tac E adesso mettiamo Uno di metallo Ok Ed è sparito tutto Questa qua è una poison sword Sicuramente si crea La calderone Combinando Certo Capito Alcune cose Crea un veleno Che metti nella lama E vale un sacco Ok Eh sì Quello sì L'ho capito L'ho capito È molto 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 figo Comunque dai direi di fermarci così Per questo video Un sacco di novità Abbiamo la locanda Ormai al massimo Che fa tantissimi soldi Espanso tantissimo il negozio Messa tantissima roba Abbiamo i drudi Abbiamo i ladri Un sacco Un sacco di roba Il calderone Che non sappiamo utilizzare Ma va bene Va bene anche quello Esattamente Che non so per l'usare Ovviamente sbloccheremo I tir uno e due di tutti Per vedere tutta l'attrezzatura Che potremo vendere Sbloccheremo le pozioni Per Ferrenichi Le trappole Le trappole Le trappole E sbloccheremo questa Che è la cosa più interessante Il 30% di più di popolarità Ma poi a tirare i barbari I barbari è un'invasione di barbari Che viene a distruggerti Tutto il negozio Oh ma che bello Quindi ci sarà una rissa Finale incredibile Non vedo l'ora di vederli Fantastico Lo so Lo so E poi manca anche il campione Che potrebbe far comodo Beh ragazzi Se riesce così Se già sentiteci per like E se la prima volta Che avete il nostro video Potete considerare il video Di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao 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 ciao